sono 14 22 del 22 febbraio 2024 mi trovo al crocevea di questo va a monte bella ecco appunto diamo la segnaletica sentiero 1 monte bella posso ferire sentiero 2 le grotte sentiero 1 questo qui questo è il ballone del taglio e questo è via monte bella e quindi io torno a casa come al solito oggi tra la bici e camminare a piedi adesso sono le due quattro ore vabbè in media porta minimo tre ore tre ore quattro ore cinque ore anche sei ore in media tutti i giorni tra la bici e le escruzioni montagna senza contare l'orto vado a letto anche molto presto io le sei le sette la sera c'è anche a letto e spesso le sei la sera mezzanotte mi alzo stanotte mi sono alzato tardi alle cinque le cinque ho fatto solo quasi il giorno di lettura sono andato verso l'incidio per la quanta la città e la rueta ho visto che la temperatura era un po' bassa è il preferito tornare indietro poi chi me lo fa qua i giorni non mancano